Venezia-Udinese termina 3-2 il Venezia vince contro l'Udinese facendo un trist di gol magnifico e davvero piacevole garbato azzardo a dire il Venezia infatti gioca in casa l'Udinese fuori casa tre gol di cui due su rigore che li fa un unico giocatore Joel, poi Amparo e poi un altro di Hans Nicolussi ma è un gol non su rigore per quanto riguarda invece l'Udinese i due gol arrivano entrambi nel primo tempo segno evidente che nel primo tempo l'Udinese galoppa eccome chi li fa i gol? Sandy Lovric e Icar Bravo da segnalare l'espulsione per l'Udinese di Isaac Touret nel secondo tempo arriva infatti un cartellino rosso le statistiche però promuovono appiano proprio il Venezia che ha vinto rispetto all'Udinese più possesso di palla, più passaggi precisione nei passaggi che a livello percentuale sembra più alto rispetto all'Udinese vi ringrazio per l'ascolto e per la visione il video termina qua vi auguro una buona notte